Non posso rischiare degli uomini in questa operazione. Non voglio il posto. Dovete salire sull'elicottero adesso. Mi ascolti solo un momento. Avete idea di che cosa c'è là fuori? Non importa cosa c'è là fuori, lei sta morendo. Non posso fare niente a momento. La ragazza chiamo più di qualunque cosa, sta morendo ed è colpa mia. Doveva restare con me e io l'ho lasciata andare. Io lo so che voi siete impegnatissimi, lo capisco, ma io devo andare da lei e se volete fermarmi, allora dovrete spararmi. Ad. Non mi sento molto bene. Oh, cazzo. Morso! Non fermo, non fermo. Morata no, muovere! Aspettate, aspetta come momento. Vero! Marlena, stai bene? Che volete fare? Aspettate, ne va a portare! Dov'è? Oddio! Marlena, perdite! Aspettate! Aspettate qui, no! Aspettate, non vengono i sacgano! Mi ha un sacano nel brazzo. Marlena! Aspettate! Oddio! Marlena! Marlena! Non ci portate, non ci portate! Non ci portate! No! Non lo mettete in mente! Che è successo? Non lo mettete in mente! Perché? Calma, calma! Non lo mettete in mente! Non lo mettete in mente! È finito, è finito! Ci penso io, andate! Sicuro? Riporto io all'elicottero. Bene. Muoviamoci! Oh Dio! Che l'è successo? Che l'è successo? Che è successo? Andiamo! Non dovrei farlo! Forza! Forza! Ok. Avanti! Ok, ok! Avanti, avanti, andiamo! Avanti, muovetevi, su! Va bene. Adesso mi ascolti. La ragazza, dov'è? A Columbus Circle? Sì. Se volete andare là fuori, io non vi fermerò. Ma sappiate che il governo applicherà il protocollo tabula rasa. Vuol dire distruzione totale dell'area. Intende Mittal? No, intendo Manhattan. Avanti! Tenteremo un ultimo attacco. Se non funziona, l'intera città verrà rasa al suolo. Il suo orologio funziona? Sì. Bene. Gli elicotteri decollano tra la quarantesima e parche. Gli ultimi saranno alle 6.00. Arrivateci e vi porteranno via. Ok? Ok, grazie. Là c'è la cinquantotesima, andate. Muoversi, muoversi, muoversi! Via, 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 via! È un incubo. Ma come se... Io non so neanche che è successo a Marlena. Tu sei riuscito a vedere che l'è successo? No, loro sanguirava degli occhi e hanno cominciato a urlare che era stata morsa. E non la smetteva di sanguirare. Stai bene? Sì, sto bene. Stai bene. Sentite, non vorrei essere... Abbiamo poco tempo. È meglio se restate qui, ok? Andrò io, ok? Mi dispiace, io non... No, no, veniamo, veniamo. Siete sicuri? No, 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 dobbiamo farlo, ok? Siamo con te, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo.